In tutta la città, questo è stato un momento bellissimo, poi stasera dicevo a Marco Tardelli il terzo attaccante ha fatto il cross che poi è stato deviato il porto, assicché tutti e tre hanno seguito In tutta la città, questo è stato un momento bellissimo, poi stasera dicevo a Marco Tardelli il terzo attaccante ha fatto il cross che poi è stato deviato il porto, assicché tutti e tre hanno seguito Grazie a tutti.